E' tempo di annunci in casa Catanzaro. La società piazza il colpo in difesa. Stefano Sconamiglio torna a vestire la maglia giallorossa dopo aver disputato una seconda parte di stagione 2020-2021 da protagonista con la maglia delle Aquile. Il difensore classe 1994 ritrova i suoi compagni legandosi al club con un contratto biennale. Cresciuto nelle giovani dell'Ascoli, maglia con la quale ha esordito e collezionato 24 presenze in Serie C, Sconamiglio rinforza il pacchetto difensivo di Mr. Calabro. Per lui 28 presenze in Serie B con la maglia del Trapani e 127 in Lega Pro, collezionate con le maglie di Aversa, Matera, Trapani, Alessandri ed infine Catanzaro. Manuel Nicoletti passa a titolo definitivo dal Monopoli al Foggia, contratto fino al 2023. La società rossonera che annuncia l'arrivo di Vincenzo Milillo, che assumerà la carica di direttore generale, Milillo, uomo di fiducia della famiglia Canonico, ha rivestito in passato la carica di direttore tecnico del Bisceglie, direttore sportivo del Balfetta e responsabile del settore giovanile dell'Andrea Calcio. La Vibonese acquisisce le prestazioni a titolo definitivo dell'attaccante Mamatou Baranglom, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Milan nella passata stagione con la maglia della Karatese e il difensore Giovanni Mauceri, classe 1999, lo scorso anno alla Cireale. La parganese perfeziona gli ingaggi di Ali Nader e Giovanni Midolo, biennale per entrambi. Tre anni di contratto per il difensore Paolo Gioffre, che riparte dalla Turis. Infine il Parma cede Andrea Adorante alla CR Messina.